L'ex sindaco di Pavia, deputato di Forza Italia, è sicuro un governo politico nascerà. Il centrodestra vellinese avrà contatti diretti con Roma, giunge, e poco importa se per strada si è persa Fratelli d'Italia, Morano qui è la svolta. Sono qua perché ho fatto sindaco da giovane di una città per certi versi simili, come era Pavia, e so quanto sia importante dopo anni delle stesse facce, delle stesse dinamiche, delle stesse amministrazioni, dare un cambio robusto e rilanciare la propria città. Io spero che gli avellinesi abbiano questo coraggio perché la coalizione, le persone che candidiamo, il candidato sindaco Sabino Morano, garantiscono qualità, capacità amministrative, voglia di cambiamento. La coalizione invece c'è e attraversa l'Italia, sia ad Avellino abbiamo perso qualche pezzo, si tratta di qualcuno che ha preso un abbaglio a livello locale, ma noi non ce ne occupiamo e continuiamo a lavorare per un centrodestra unito e avere a fianco gli amici della Lega Nord, così come gli amici della democrazia cristiana, dell'ista civica, noi con Avellino, è garanzia appunto di una coalizione che tiene insieme il meglio che si poteva esprimere nella città di Avellino. Il nuovo corso Facciamo Centro con gli slogan Morano ipotizza, un corso che a seconda delle esigenze apra o chiuda il traffico, mentre la pedonalizzazione può ruotare intorno al centro storico. Le pedonalizzazioni selvagge hanno fatto aumentare l'inquinamento in città, questa è una cosa di cui io sono estremamente convinto e non lo dico solo io, ma lo dicono tutti gli studi sull'argomento in varie città d'Italia e d'Europa. Noi dobbiamo invertire la tendenza, cioè fare una viabilità razionale, anche modulare, insomma, a seconda degli orari e delle esigenze, e riportare alla normalità una città che ha avuto un imbazzimento rispetto all'impostazione delle strade e delle pedonalizzazioni. Basta degrado nelle periferie e invece lo slogan di Cipriano, che con i candidati di Mai Più ha provato a convincere questa mattina gli abitanti di Via in Bimbo. Noi stamattina abbiamo voluto portare le telecamere, i giornalisti, a pochi passi dalla Mensa dei Poveri, a pochi passi da Via Morelle e Silvati, siamo in pieno centro città a documentare una situazione di degrado assoluto. Fogna a cielo aperto, erba tagliata, topi, serpenza, le persone hanno una dignità, non sono voti, sono persone, quindi con molta umiltà proveremo, se sarò sindaco, ad aiutare questa gente che vive in condizioni di assoluto degrado. È una questione di fondi, è una questione di organizzazione, dove si trovano le risorse o qual è l'organizzazione per risolvere questi problemi? No, è una questione di dignità, non è possibile che il Comune di Avellino non sia in grado di organizzare un servizio di sfalcio dell'erba quando paga un milione di euro al mese ad Irpini Ambiente. Il Comune di Avellino paga un milione di euro al mese ad Irpini Ambiente, che tra i suoi compiti ha la pulizia degli spazi verdi.